Ciao ladies! No, non so più come fare video Ciao ladies! Benvenuti nel canale Io sono Eleonora, se non mi conoscete Benvenuti in un nuovo video Video veramente richiesto Perché se mi seguite su Instagram e avete seguito già le mie avventure Comunque si, ho un'unghia rotta Saprete che sono stata a Londra E a Manchester recentemente Nello stesso arco di tempo Ne ho approfittato per fare Un po' di sano shopping Ah, e uno non dice un po' di sano shopping Intende 3-4 bustarelle Allora, diciamo che non è sbagliato dire 3 1, 2 e 3 Non mi sono decisamente regolata Non mi sono riuscita a dare una regolata Ho comprato la qualunque Io non so neanche quanto ho speso Non voglio nemmeno fare quella cosa del tipo Contare sommate quante sono tutte queste cose Semplicemente perché non lo voglio scoprire Non lo voglio sapere I don't wanna know Because my heart can't take it anymore Vi dico spesso di prendere una tazza di tè Quando guardate i miei video Perché è appunto una chiacchiera che ci facciamo insieme Magari sotto le copertine Il plaid Perché ormai è anche stagione Ma io penso che in questa cosa Più che una tazza di tè Sia meglio prepararsi una tanica Cioè avere 1-2-3 litri di tè Di latte col miele Perché io adesso sto prendendo quello Di minestrina col brodo Di pollo Di broccoli Un chilo di broccoli Da mangiare Da sgranocchiare Da bere durante la visione di questo video Perché sarà un video lungo Ho questa sensazione E adesso senza altre chiacchiere Direi di iniziare Quindi 3-2-1 Iniziamo E' arrivato quel momento Il momento della question of the video La domanda del video di oggi In realtà sarà Cioè è una domanda Alla quale potrete rispondere Nel corso del video E infatti direi comunque di iniziare subito Perché la domanda è Cosa vorresti vedere Cioè io adesso vi farò vedere Le varie cose che ho acquistato E di queste Che cosa vi interesserebbe di più Farvele vedere magari In un outfit su Instagram In una foto In un video Try on In un video invece Dove mi trucco Con alcune cose che ho preso di trucco Sono talmente tante cose Che io non me le ricordo Cioè io le guardo e dico Wow che figo Meno male che l'ho comprato Cioè non me lo ricordo più Sicuramente posso partire con una cosa Che avete già visto Che sono le cose che ho preso Da Superjack E poi voi dovete capire Se non mi conoscete Cioè se non avete confidenza con me Che io sono un'ossessionata Quindi se le cose le faccio Le devo fare bene E quindi ho ottenuto Tutte le buste Dei negozi Di dove sono stata Cioè io ho viaggiato A ritorno Con tipo pacchi così Di buste E anche se avessi dovuto pagare Tipo 60 euro in più Per la valigia L'avrei fatto Perché io dovevo portare A casa Le buste Per farvele vedere Quindi vedrete Tutte le buste Di tutti i negozi Dove sono stata Ditemi se vi piace questa cosa Perché io ho una cosa che amo Quindi iniziamo dalla prima Superdrug Superdrug Che cos'è Per chi non lo conosce Se rendiamo questo video Anche utile Oltre che di intrattenimento Ho deciso di fare di intrattenimento Non vorrei dire il nostro Sephora Perché il nostro Sephora è di più Ma se andate in Inghilterra Sappiate che Non esiste Sephora Lì I due posti dove si compra di più Il make up In generale Sono Boots E Superdrug E questi due negozi Hanno un reparto farmacia Sono delle parafarmacie Ma hanno anche Il reparto make up Molto sviluppato Soprattutto Superdrug Anche se poi dipende Da negozio a negozio Non mi soffermo Troppissimo su queste cose Perché qui Ho comprato Make up revolution In particolare E vi ho già fatto il video Provando insieme a voi Queste cose Dove vi trucco Con make up revolution E quindi Vi lascio qui il video Se non l'avete visto Andate a dare un'occhiata Ci sono poi tre cose Che ho preso da Superdrug E non vi ho mostrato in quel video Perché non erano di make up revolution E sono dei glitter Di Barry M Barry M È un marchio Che io avevo conosciuto Nel 2012 2013 Perché ne parlavano moltissimo Le youtuber inglesi Che io seguo Da un sacco di tempo Ed era famoso Per i pigmenti occhi Quindi tipo I ombretti In singoli In polvere libera Cosa che adesso Non si usa quasi più Per niente Ma Ho visto andando lì Dei glitter Loro Pazzeschi Cioè Adesso vi faccio vedere Spero di riuscire a rendere Della telecamera I riflessi Perché sono Cioè Questo Si chiama Night Fairy Ed ha tipo Viola Di base Con dei riflessi Azzurri verdi Ah se vi piace il look Di oggi Forse potrei pubblicarlo Su Instagram In un video È una cosa che non faccio Quasi mai Ma ho voluto farla A modo mio Boh Potrebbe uscire Potrebbe Intanto andate su Instagram Se non mi seguite Nel dubbio Poi il secondo È Ultra Violet Dal nome ovviamente È Viola Anche qui con Vari riflessi Boh Sono uno più bello Dell'altro Veramente Questi glitter E poi c'è Wonderland Particolarissimo Copper Verde Oro Se non sbaglio In caso mi correggerà lei È proprio Wonderland Che Loretta ha visto E si è comprata Mentre stavamo sempre Da Superdrug Che avevamo messo Nel carrello Sia io che Deborah E infatti L'ha provato su di lei Tipo la stessa sera E le sta Benissimo Quindi Se siete dark skin Io questo ve lo consiglio Perché l'ho visto su di lei Era pazzesco Ovviamente Spero che stava carino Anche su di me Per i prezzi Io non li ho tenuti Gli scontrini Semplicemente perché Sarebbero stati Delle pugnalate Al mio cuore Vi lascerò Per quanto possibile Tutti i link Qui sotto Nell'info Parlando proprio Di una di quelle cose Che mi ero Completamente dimenticata Di aver preso Paper Chase Questo negozio qui Dal nome Paper Capirete che è tipo Una cartoleria Ce ne sono tantissimi Quando io andai a Londra Anni fa Non ce ne erano così tanti Invece ce ne sono un sacco Sia come corner Sia come invece Negozi proprio Monostore E vendono delle cose Troppo carine Da agende A quaderni Ma anche cose di Weekly planner Monthly Io qui ho preso Due biglietti di auguri Uno per il matrimonio Che c'è stato Del migliore amico di Nicola E l'altro per mia madre Che ha fatto 50 anni Quindi c'erano veramente Dei biglietti molto carini Ma che sono stati già dati Non ricordavo di aver preso Il diario 2019 Carino Allora lo stile Non è molto mio Cioè non è Molto il mio stile Però Mi piace molto Come è fatto dentro Ora che lo guardo Mi ricordo Avevo visto che per ogni mese C'era comunque qualcosa Di diverso Ed è gestito sempre A settimane Quindi questa è una settimana Questa è la settimana dopo E questa è quella dopo Quindi ogni volta È diverso Perché sono stata a Manchester Sono stata a Manchester Insieme a Lush Ho fatto anche dei vlog Di questo viaggio Uno l'ho pubblicato L'altro Non ne sono ancora sicura Però ero comunque Ospite appunto di Lush Perché c'era Lo showcase 2018 Dove hanno mostrato Sia le novità che arriveranno Sia si è parlato del mondo Di Lush E tutto quello che gira Attorno al brand Il primo è Shield Un siero per capelli Con latte di Anacardi E cocco È veramente molto interessante Perché io non ho mai provato Un siero Questo qui dovrebbe proteggere Anche proprio dal calore Poi ci sono delle bombe Questa è una bomba da doccia Questa è una bomba da bagno Questo sapone qui A forma di fantasmino Questo secondo me è molto In tema Halloweeniano Autunno Ottobre novembre Ok Questo qui è il prodotto Che perde un po' Troppo Infatti penso di lasciarlo qui In studio Al bagno E non portarlo a casa Perché altrimenti Mi ribagna tutto Si chiama Gold Finger E questo qui praticamente È una maschera Color oro Che dovrebbe dare anche poi Luminosità al volto Questa va tenuta su Per dieci minuti Vero highlight In tutti i sensi Di questo evento Lush È stato L'illuminante Cioè l'illuminante In stick Io Ho fatto scorta E ce ne sono Di ogni colore Questo è rosa Si chiama Robin Il resto non ve li faccio vedere Tutti quanti Ma sono veramente Veramente carini In particolare Quelli che dal vivo Mi hanno colpito Sono stati appunto Robin E Goldfinch Questo qui Che è proprio dorato C'è tipo Trophy wife Di Rihanna Non scherzo In versione In stick E ve lo metto qua Cioè Bellissimo Sempre all'interno Della showcase C'era anche un reparto Libri In inglese ovviamente Però l'ho presa Come una sfida A migliorare Il mio inglese E anche a tenerlo Aggiornato Perché io non leggo Sento tantissimo Film, telefilm E video di youtube In inglese Ma non lo leggo mai Quindi ho voluto Prendere due libri Uno Non ce l'ho qui Ma magari vi lascio Una foto Si chiama How to break up With your phone Consigliato tra l'altro Da Loretta Ci siamo un po' scambiate Dei consigli Durante questo viaggio E ho iniziato a leggerlo Ho letto le prime 20 pagine Poi dopo Non l'ho portato con me A Londra Perché sapevo Che non l'avrei letto Quindi adesso Posso finalmente Rimettermi a leggerlo E parlo appunto Di come riuscire Ad avere una Relazione sana Con il proprio cellulare Perché ad oggi Soprattutto per me Lo ammetto Uno strumento Molto presente Nelle nostre vite Tipo Per molte persone È la prima cosa Che toccano Che leggono Che vedono La mattina quando si svegliano È l'ultima prima Di andare a dormire E ci sono persone Che ce l'hanno sempre in mano Il secondo libro È di Michelle Hellman Si chiama Am I ugly? Sono brutta Parla della body positivity Michelle Hellman è anche stata Una delle ospiti Dei talk Di Lush Colgo l'occasione Veramente per ringraziare Tantissimo Lush Di questo viaggio meraviglioso E vi lascio qui sopra Un video molto importante Che abbiamo girato Io e Deborah Che riguarda La bellezza dei tempi Di Instagram So che i video haul I video dove ci trucchiamo Sono quelli comunque Che sono più di intrattenimento Però veramente Non vorrei Che lasciasse indietro Un video importante Come quello Dei messaggi Con un po' più di spessore Quindi Se non l'avete visto Magari mettetelo nei guarda Più tardi E andatevelo a recuperare Ok Questa cosa è troppo divertente E ve la devo far vedere Ma capirete tutto Alla fine del video Quindi Starbucks 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 Che è arrivato in Italia Ma Sotto mentite spoglie Cioè nel senso È arrivato tipo Roastery Qualcosa Quella di lusso E poi ci siamo in italiani Che Non volevamo quella di lusso Volevamo quella dei poracci Effettivamente è così Cioè noi vogliamo Quello normale Quello con il pumpkin spice latte E il frappuccino E la cosa con la sirena verde Arriverà quindi Non temete Che nel 2019 Arriverà Si spera Questo è quello che so Nel frattempo Ci accontentiamo Degli Starbucks All'estero Una tazza E ho preso questa qui Bianca Con inciso il logo Ok Così lo potete vedere Avete sentito che ok Mi è uscito Ok Semplice Bianca Normale C'è una T qua sopra Non so perché Forse qualcuno lo sa C'è proprio una T Comunque Ho deciso di comprarla così Semplice Anche perché È di una grandezza Che mi piace Per bere il tè Forse la T sta per te O per the lady toast Capirete poi alla fine Non vi dico niente Andiamo avanti Ho ritrovato delle orecchie Questa cosa mi ha anche ricordato Che Deborah Ha delle orecchie Che abbiamo comprato insieme In comune Per utilizzarle in alcuni video E non le ho ancora portate in ufficio Quindi passando da Superdrug a Boots Quindi l'altro Dove si comprano i trucchi Non solo Hanno un reparto di capelli Enorme Immenso Infinito E ho deciso che Siccome i capelli Mi si stanno schiarendo Perché qui sotto Sì Penso che si veda Da dove Precisamente C'è ancora il Caro vecchio Biondo platino Io volevo scurirli Che poi in video Sono più scuri Che nelle foto Sulle stories Quindi A casissimo Ho deciso che era il momento Di fare i capelli E ho preso Questo qui Che non so se c'è in Italia Comunque Il Casting Creme Gloss Tonalità 323 Dark Chocolate Sulla base di cosa Assolutamente nulla Sulla base del nome Del colore Dark Chocolate Io volevo un cioccolato scuro Quindi Ho preso questo Poi c'era il cocco E mi sembrava carino Poi c'è anche Nicole E ho detto Cavolo ma Questa tizia io la conosco Infatti ha fatto uomini e donne Tanto che c'era una cosa Molto strana Lei stava su 4 colori differenti E' come se io stessi Con i miei capelli Sul colore cioccolato Sul colore nocciola Sul colore Caffè latte E sul colore Mogano Non avrebbe senso Ma me ne è fregato qualcosa Assolutamente no Mi sono fatta lo stesso A comprare Dal cocco E quindi ho preso questo Ma Ho preso anche un altro colore Per fare le punte Perché avevo detto Che avevo voglia Soprattutto dopo essere stata lì Ce ne sono tanti Di ragazzi e ragazze Con i capelli colorati Di fare I capelli colorati Quindi ho preso un colore Non mi faccio vedere quale Perché ho deciso Che lo farò insieme a voi In video Mi colorerò i capelli E non l'ho mai fatto Ho sempre fatto La parrucchiere Quindi sarà tipo La prima volta A parte quelle cose Tipo l'oreal colorista Che ho fatto Quando avevo i capelli biondi Quindi era un'altra cosa Non sarò sola Sarò con una persona Esperta di capelli Altre cose che ho preso Sono le striscette Per la pelle Cioè per il viso Per fare tipo Baffetti Che però non ho usato Però ho pensato Questi tipo Possono sempre servire Perché se l'estetista Ti dice che non ha posto Una cosa che mi è piaciuto Un sacco dell'estero E cioè Dell'Inghilterra Di Boots E Superdrug È che lì hanno Delle size Enormi di cose Cioè sia di shampoo Che di balsamo Se ci andrete Se ci andrete Lo noterete sicuramente E anche di deodoranti Siccome a me piace tantissimo Questo qui Il Dry Confidence Che in Italia Forse si chiama un'altra cosa Però sempre dry L'ho preso Ed è più grande Di quello normale E non Non viene Cioè viene tipo Anche ora di meno È strano Perché solitamente Le cose vengono di più Cioè Londra E l'Inghilterra Costa di più Però queste cose no Cioè per queste cose È conveniente All'aeroporto C'era di nuovo Boots E ho fatto Gli acquisti Anche in aeroporto Questa marca Non l'avevo vista In giro Ed è una delle mie preferite Che ho scoperto Anche questa Tanti anni fa Si chiama Soap and Glory Sia reparto Diciamo Bagno Con bagno schiuma Creme corpo Eccetera Sia reparto Make up Anche di make up Ci sono delle cosine carine Però è più famoso Per Per tutto il resto Soprattutto per i profumi Che ha Ho deciso di prendere Queste due cosine Questa è Spritz Me Quick Una crema Che dice essere Super idratante Ma che si asciuga Molto velocemente Ed è veramente liquida Io ho Il corpo Che non reagisce Benissimo Ai body butter Quindi in generale Ai burri corpo Li posso mettere In alcune zone E mi aiutano molto Perché Ho delle zone Molto secche Come i gomiti Le ginocchia E i Come si chiamano Quelli dietro i piedi I talloni Sì Il tallone Da kill I talloni E ha un profumo Cioè ha proprio il profumo Di stop and glory Se io vi dovessi dire Di che sa Non ve lo saprei dire È dolce E poi ho preso Quest'altra cosa Che non lo so Da che cosa Mi sono fatta comprare Forse Avevo tipo Mangiato un sacco Male In quei giorni Quindi ho detto Sono ingrassata E questo qui È un Trattamento Super intenso Che vedete qui Anche tipo I rollini Per la parte Inferere del corpo Quindi cosce Glutei Firming Quindi che va A fare tipo Così un po' tipo Se state un po' così Fa tipo Spero di avervi fatto capire bene Come funziona Con i miei 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 gesti Perché a parole Non saprei come dirvelo Ultimo Ma non per importanza O forse sì È un profumino Di Ted Baker Nessuno dice mai Che una cosa L'hai lasciata per ultima Anche per importanza Ma io oggi ve lo dirò Perché io non uso i profumi Ne ho veramente pochi Perché preferisco Le acque profumate Cioè io le acque profumate Le amo E le spruzzo ovunque C'è anche sul corpo Sui vestiti No? Però ho deciso di prendere Questo profumino Di Ted Baker Mi è piaciuto abbastanza Come profumazione Questa è sicuramente Floreale Questo comunque Non veniva tanto Quindi ho detto Aggiungiamolo Perché è sempre meglio Di avere un profumino Siccome io spesso Non ce l'ho Questa busta mi manca Non so perché Ma sono stata da Primark Ovviamente Sia a Londra Sia a Manchester Adesso stiamo finendo Quelli di Manchester E iniziamo con quelli di Londra Quindi non ho la busta Ma per fortuna Ho ancora i prodotti Ho preso Ma si è rotto? No Ho preso questo qui Che è un I dischetti Ecco È un paccone enorme Di dischetti in cotone Venivano 90 sterline Cioè 0,90 sterline E quindi ho deciso Di prenderli Che carino Poi Io non posso stare Un'inverno Senza delle nuove Ciabatte di Primark Che si provengano Da Milano Da Firenze Da qualsiasi parte Del mondo In questo caso Mi trovavo lì E le ho scelte lì Ho preso Faccio vedere Ah no Sono tutte attaccate Vabbè Comunque Ho preso queste Che sono morbidissime Ma Sono anche un po' Rigide sotto Perché altrimenti Le sfondo E le stelline bianche Su fondo grigio Sono davvero carine Sono un 40-41 Perché ho un piede da fatina 4 pound Queste posso dare più il prezzo Anche perché sicuramente Delle cose di Primark Non potrò lasciarvi i link Ciglia A più non posso In particolare Vi volevo consigliare Allora ho preso Le diva E le drama Di questo Di questa tipologia Quindi con il marmo Intorno Che vengono 4 pound Invece Ho preso poi Queste qui Che vengono 5 pound E sono Queste le Dubai Che ancora non ho provato E le Milano Che invece ho su E ho già provato Siccome ho provato Anche le Diva Posso dirvi Che tra le due Queste sono nettamente migliori Ne ho poi approfittato E ho preso dei prodotti Che sono Imitazioni di altri Originali Quindi Questo qui È l'imitazione Dell'illuminante Di Rihanna Di Fenty Beauty E vi ho fatto il video Dove mi trucco Meta viso con gli originali Di Sephora E meta viso con Le imitazioni di Primark E dovrete scoprire voi Quale metà è Cosa Quindi vi lascio il video Se non l'avete visto 3 pound E sono 2 paia di cerchi Un paio oro Un paio argento Semplici Grandi Ammetto che sono Abbastanza grandi Reparto cartolelia Di Primark Anche lì Oh ma si è rovinato Tantissimo Chissà con che cosa L'ho fatto sbattere Tipo tutti I segni Non so se avete anche voi Questa Questa fissa Cioè quando vedete Che c'è le etichette Sotto c'erano Un'altra etichetta Con il prezzo di prima Io la alzo sempre Per vedere qual era Il prezzo di prima In questo caso Il prezzo era in euro Cioè 2 euro e 50 Pound 2 E penso mi sia andato bene Perché Cioè con il cambio Sarebbe stato forse Un po' di più In euro Cioè 2 euro e 50 Vabbè avete capito Mi è andata bene Ok Averlo preso con le sterline Questo qui È il quadernino Che ho preso Che ho scritto Bla 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 E dentro È tutto semplicemente A righe Vediamo scrivere Nei quaderni A righe Con queste righe qui Quelle grandi E poi Per 9 pound 9 sterline Ho preso Questa maglietta Di Britney Spears In doppia extra large Reparto uomo Perché Non c'era nel reparto donna Con questa foto Di Britney Tipo Anni 90 Passiamo adesso Agli acquisti Che ho fatto A Londra Che sono Un po' di più E sicuramente Più Pensati Più particolari Molti più negozi Perché Ero lì per Non lavoro Ma per vacanza Totale E riprendiamo Da Primark Quindi che cosa Ho preso a Londra Veramente Veramente poco Ho ottenuto anche La bustina Per necessità Ho preso questa Qui Quindi una spugna Semplice Ma in realtà Vi devo dire Che ho deciso Di portarmela in Italia Perché è proprio buona Quindi se avete Primark Vicino a voi E ci sono queste spugne Io le uso sempre Di questo tipo Per lavarmi Ma questa è molto Più compatta Di quelle che trovo Tipo da Ikea O in alcuni supermercati Cioè Mi è piaciuto Di veramente un sacco Quindi ho sempre Tipo Una sterlina Forse di meno A Londra Ho trovato anche La versione Delle ciglia finte Che vi ho fatto vedere Prima in oro Versione argento Quindi ho preso Queste qui Che si chiamano Holly Non ho idea Di come siano Però dovrebbero essere Simili a quelle Che stanno usando oggi Quindi spero Che siano buone Le proverò Vi farò sapere E poi ho preso Anche questi qui Che questo che ho io Nero L'ho preso Sempre da Primark È veramente super morbido È un elastico Per capelli Questo che ho io Nero È un elastico Per capelli E mi ci sono Trovata un sacco Bene L'avevo preso Sempre in un pacco Da tre Poi uno Sparisce Due Spariscono Ne è rimasto Soltanto uno Ho trovato questi qui Invece in versione Autunnale E ho detto Comunque Ci stanno Quindi ho deciso Di prenderli Questo qui È rosso Un po' tipo Effetto sera Questo qui Bellissimo Okra E questo qui Invece è un po' Tipo con dei fiori Che veniva Due pound A Londra C'è il negozio Di Missguided Missguided È uno store online Veramente famoso Non tantissimo in Italia Ma in realtà Io anche anni fa Quando avevo aperto Il canale Tipo nel 2015 Avevo fatto Un haul Di Missguided Perché avevo ordinato Da questo sito E non pensavo Ci fosse uno store fisico L'ho trovato Nel centro commerciale Di Westfield Che è leggermente Fuori Londra Ma Sempre comunque Abbastanza centrale Tipo porta di Roma A Roma Io volevo degli stivali Cioè sono partita A Londra Soltanto con le scarpe Da ginnastica E Che altre scarpe avevo? Degli anfibi Che però poi Mi si sono anche Scollati Grande E sono partita apposta Senza stivali neri Perché ho detto no Tanto io voglio Questi stivaletti Mi sono messa in fissa Che devo trovare Questi stivaletti neri In finta pelle Con le borchiette Tutte argentati Alla fine L'ho trovati Proprio da Missguider E infatti è stata Poi l'unica cosa Che ho preso Perché Stavo per prendere Anche una felpa Di playboy Cioè non una felpa Una tuta Sotto E felpa crop top Sopra Nude Con il colletto Di playboy nero Era carina Credo che mi stessi Anche abbastanza bene Voi mi avevate Consigliato di prenderla Su instagram Però poi Non l'ho presa Perché effettivamente Mi sono detta Quanto L'avrei usata E la risposta è L'avresti usata Leonora L'avresti proprio usata Perché Anche per stare in ufficio Per stare In casa L'avresti usata Quindi sto cercando Di dimenticarla E di pensare Che mi stesse Molto male Quindi per favore Ditemi No era un artist Stava un male Sono loro E possono piacere O non piacere Però Devo dire che Sono sicuramente Trend di stagione Perché li ho visti In diversi modi Diverse sfumature In vari negozi Però purtroppo Spesso erano In vera pelle Un po' a punta Cioè io Cercavo proprio Queste caratteristiche Qui hanno la zip Quindi si apre Questa zip E si infilano tranquillamente Con tutte queste fibbie E anche queste piccole Porchiette Non esagerate Cioè Carini Molto rock Shim Shim Molto chic Glam rock A Covent Garden C'è E non solo lì Ma c'è Il negozio Monostore Di Desiem Desiem Non so veramente Come si pronunci Questo brand Che è comunque Il brand stesso Di The Ordinary E ho preso Due prodotti Uno è Veramente tanto Richiesto Perciò dico Vi piacerà Perché è uno De fondotinta In commercio Meno costosi Quindi uno dei più Low cost Che ci sia in giro Che promette di essere All'alta coprenza Perché si chiama Coverage Foundation High Coverage Foundation Formula Quindi lo dice proprio Che è all'alta coprenza Contiene 30 ml Quindi la media Che ha qualsiasi fondotinta E costa appunto Poco Il packaging Non è nulla Di che Perché per questo prezzo Sul packaging Non hanno lavorato Praticamente Per niente È questo qui Ho chiesto qualche consiglio Alla ragazza Siccome ha una pelle grassa E mi ha consigliato Questo qui Adesso Il nome è un po' complicato Ve lo faccio leggere Poi vi lascio il link Qui sotto L'ho provato due volte Mentre ero lì Poi ho messo tutto quanto Nelle buste Per farvi vedere le cose Quindi non l'ho più toccato Questo qui però Va messo con il contagocce Mattina e sera Prima della crema viso Quindi va messo Va lasciato asciugare E poi dopo va messa La solita crema Che utilizzate Sia per il giorno Sia quella che utilizzate Per la sera Con il tempo Questo qui Dovrebbe proprio Aiutare Le zone grasse Del viso A attenuare La produzione di sepo In eccesso Una bimba Al parco giochi Londra Non ha Sephora Ma In compenso Ha tantissimi Mono store I negozi Proprio dedicati Interamente Ad un brand Quindi c'è il negozio Di Too Faced E ce n'è anche più di uno Perché lo stanno aprendo a Westfield C'è quello di Urban Decay C'è quello di Veramente Ce ne sono tantissimi E ogni volta che entrate Vivete a 360 gradi L'esperienza di un brand Perché È tutto bellissimo Ho fatto una rubrica Sulle mie Storie in evidenza Che si chiama appunto London Dove vi mostro tutti i posti Dove sono stata La maggior parte almeno E vi mostro anche I monostore più carini E Too Faced È sicuramente È il più bello forse Dove sono entrata C'era praticamente tutto Del brand Le cose a forma di pesca Cioè non Proprio gli espositori A forma di pesca A forma di barretta di cioccolato Troppo bello Troppo bello E ho preso Questo qui Che è un set Nuovo Di quest'anno Proprio per l'edizione Holiday 2018 Quindi questo Questo Natale È un set Di 4 rossetti liquidi Si viveva già L'atmosfera del Natale Perché questo è appunto Un Christmas set Quindi un set Natalizio Che potete anche Acquistare Per regalare A qualcuno Il prezzo è tipo 20 euro 22 26 Insomma non è Tantissimo E dentro ci sono appunto 4 rossetti liquidi Sono in mini size Ma sono delle Generose mini size Diciamo che Solitamente le mini size Sono anche più piccole Poi io Forse perché ho tanti trucchi Ma anche prima Di averne così tanti Io non tendo a finire Un prodotto Perché ne uso Vari Spazio E uso sempre poco prodotto Non ne metto troppo Troppo Quindi io sono sicura Che questi qui Non li finirò La cosa bella È che sono super personalizzati Perché ogni Rossetto liquido Ha il tappino Con i propri disegnini La cosa interessante È che ognuno di questi Ha un odore Differente C'è proprio Unici Questo qui sa di Pumpkin spice latte Questo qui sa di Biscottino zuccherato Quest'altro Latte al rum Sono comunque Tutti e quattro odori Molto Dolciastri Molto Natalizi Festivi Che ricordano sicuramente I dolci di questo periodo E sono anche speziati Due su quattro Quindi sapete Quelle cose un po' alla cannella Quindi se vi piace il genere You have to have it Altro negozio monomarca Questo l'ho scovato Vicino a Niel's Yard Ed è il negozio di Fresh Le più attente Di più attenti Sapranno che Fresh è un brand Molto famoso Per quel che riguarda I balsami labbra Soprattutto qualche anno fa Se ne parlava tantissimo E in America Ancora se ne parla molto Sono stata lì Ho guardato veramente Tutto 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 Hanno delle cose interessanti Anche come skin care È un po' costoso Mi hanno dato dei campioncini Infatti io solitamente I campioncini Non li uso Non li tengo Proprio Però questi qui Li voglio provare Perché A parte questo Che è Una maschera Però questi qui Sono due Contorno occhi E siccome Io ci tengo un sacco Al contorno occhi Voglio proprio prenderne Uno valido Però Che non deve essere Troppo ricco Perché poi mi ritrovo Con i grani di miglio Quindi ho paura A prendere quello tipo Di Kiehl's All'avocado Voglio provare Questi qua Ce n'è uno Black tea E l'altro Rose hydrating Eye gel cream Mi interessano tutti e due E sicuramente li proverò Il prodotto invece Che ho comprato Sul quale mi sono concentrata È un altro set natalizio È un altro kit Per queste holiday 2018 Quindi già vi sto dando Tipo delle idee Regalo Questo è un Due in uno Un tre Non lo so ragazzi È un dieci in uno Questo video Ed è un set Dal valore di 22 sterline L'ho pagato 18 sterline Molto carino anche Comunque la confezione Come si presenta Secondo me Per fare un regalo A qualcuno Vi dicevo che il brand È famoso Per i prodotti labbra Infatti in questo set C'è anche Un balsamo labbra In versione mini size Con l'odore Limonato Tipico della linea Appunto sugar E poi mi ha spiegato Che nonostante il brand Sia diventato famoso Per i balsami labbra Il numero uno Best seller Di tutto quanto Il marchio È questo Cleanser Per il viso Detergente Che può anche Struccare il viso Alla soia Ed è viso E anche occhi Quindi mi ha talmente Incuriosita Perché può sia struccare Può anche Lavare E detergere il viso Ed è alla soia E poi è il best seller Tipo Cioè è come se io avessi Un brand di scarpe E poi La cosa che vendo di più È un paio di calzini Cioè quel paio di calzini Deve essere veramente fantastico Lo proverò Mi farò una mia idea E scoprirò da sola Se è un prodotto valido O meno Sono cattiva Perché sto lasciando Le cose più fighe Per dopo Urban Outfitters Questo qui c'è anche Credo in Italia Sempre a Milano Ho preso Un altro paio di orecchini Questa volta Dorati Con il cuore Io non porto spesso pendenti Però Questi acquarebo Mi piacevano Erano dolci Mi sono immaginati In inverno Con un maglione Molto Capito Morbido Un altro quaderno Perché i quaderni Non sono mai abbastanza Però questa volta È veramente figo Perché È di questo brand Che viene rivenduto All'interno di Urban Che ha Dei quaderni spettacolari L'anno scorso Ne ho regalati un po' Per Natale Ad alcuni miei amici Con Beyonce Con Non mi ricordo Che altro c'era Non mi ricordo Però questo qui Con le facce di Drake E poi tutto lo sfondo Rosa Mi è piaciuto un sacco Anche perché C'è scritto qui sopra God's Plan In realtà Il titolo di una Delle sue canzoni È God's Plan E mi è piaciuto Moltissimo Poi dentro è sempre A righe Così ogni volta Che avrò un'idea geniale Dirò Fammela dire a Drake Da Urban È rivenduto a Mario Badescu Vi ho chiesto un po' Consiglio Su che cosa comprare Perché Ci sono tipo Tre o quattro Tipologie di Spray viso Un'altra cosa interessante E che mi avete consigliato Era un gel detergente Proprio contro L'acne Però Avrei dovuto avere l'acne Per provare E consigliarvi un prodotto del genere Non posso mai Effettivamente Chiamarla acne Perché io non ho l'acne Ma ho dei appunto A volte brufoli Che voglio che se ne vadano In giro di Una giornata E quindi ho preferito Prendere questa Che si chiama Drying Lotion Quindi una lozione Seccante Questa qui Questa boccetta Sembra un po' Una di quelle pozioni Di tonio cartone O strega salamandra Del fantabosco Dovrei andarla a mettere Soltanto sulle zone Che voglio effettivamente Si secchino E si asciughino In un tempo abbastanza breve Tipo brufoli Non su tutto il viso Nella vita Potrò anche Non essere sempre Fortunata No? Però io in quella settimana Nella classifica Dell'oroscopo Che tengo su Instagram Ero abbastanza alta Il capricorno Era abbastanza alto E effettivamente Una botta di L'ho avuta pure io Perché nei giorni esatti In cui io sono stata A Londra Ha aperto Il primo negozio Di Morphe Cioè A Londra Cioè è stato Il primo Credo in Tutta Europa E ha aperto A Westfield Nel centro commerciale Dove sono andata Per chi non conoscesse Morphe Uno dei brand Al momento Attualmente più famosi Anche in America Collabora con tantissimi Influencer Molto importanti Da Niki Tutorials A Jaclyn Hill E vende anche I prodotti di Manny M.O.A Che ha una sua linea Si chiama Lunar Beauty Al momento ha un prodotto Che ha una palette Quindi vende la palette di Manny Vende Jeffree Star Cosmetics Quindi c'era Jeffree Star Cosmetics Anche se non c'erano Tutte 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 le cose Ma tanto Come sapete Perché vi ho dato La notizia su Instagram Jeffree Star Cosmetics Sta arrivando in Italia Nelle profumerie Mario No E quindi Tenete gli occhi aperti Insieme a me Perché ci sarà Finalmente Jeffree Star in Italia Morphe è famoso Per Diventato famoso Innanzitutto Per i suoi pennelli Infatti prima Il marchio si chiamava Proprio Morphe Brushes Ci sono tantissimi pennelli Venduti singolarmente Anche dei set E ci sono dei pennelli Che costano di meno Altri che costano di più Io ne ho presi due Per provare un pochino La qualità E ne ho presi due occhi Uno da sfumatura Ed è il numero M139 Sembra comunque Valido E l'altro È il numero M149 Che è più piccolino Questo qua Jacqueline ha fatto Delle palette con Morphe Ho deciso di prendere Alla fine Una palettina Dell'ultima collezione Uscita con Morphe Dove sono appunto Quattro in totale Ne ho presa una Questo è il packaging Esterno Oh che figa Che se la ridete qua Le potete comprare Sia tutte e quattro insieme Sia separate Quindi io è quello che ho fatto Ho preso soltanto Bling Boss Siete pronti? Secondo me non vi aspettate minimamente Quella che ho preso Cioè ormai ho detto il nome Però dovete vedere i colori Per capire A guardarla così Sembra la palette dei viola Ma Fa tutto quanto un colore Se togliete questo viola qui Vedete come immediatamente Risulta una palette Dai toni neutri Caldi E i colori caldi Sono quelli che più mi stanno meglio Quindi questo viola È uno dei Un pop color Che rende diciamo Ti fa andare l'occhio Direttamente lì Ma per il resto Ci sono dei colori Melanzana Ci sono dei colori Prugna Ma c'è anche un bordeaux Metallizzato C'è un oro C'è un colore da transizione Questo qui Secondo me è super versatile C'è quest'altro Che è praticamente Quasi un Un carminio Un mattone E quindi ho deciso La tenere di prendere questa Vedendone dal vivo È quella che mi ha Incuriosita di più E in più Ne avevo già provata Una da Deborah Lei le ha tutte e quattro E mi ha detto Guarda questa E un'altra Che non mi ricordo Guarda delle quattro Sono le migliori Se volete dei look Con questa palette qui Non dovete fare altro Che rispondere alla domanda Del video Dicendo come la vorreste Vedere in azione Ovviamente insieme Anche a tutto il resto Quindi ho preso lei Poi ho voluto provare Delle ciglia tinte Che non ho ancora provato Quindi ho preso Le Hollywood heels Eccole qui Di Morphe E infine ho preso anche Due matite labbra Perché mi sono piaciute Tanto dal vivo Non venivano troppo Ho preso due colori Che sono Honeymoon E Coffee and Kissy Honeymoon è il perfetto Color nude Vi faccio subito Uno swatch Per farvi capire Di che parlo Cioè È molto 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 chiaro Invece Coffee and Kissy È una matita Sempre nude Ma decisamente Su quel tono Marroncino Rossiccio Autunnale E che sta bene Su tantissimi Rossetti liquidi Come mi viene in mente L'io Di Jeffree Star Broadway di Nabla Insomma L'ho presa tutte e due Perché sono due nude Differenti E che mi possono aiutare Per fare le labbra Ancora in maniera migliore Con i rossetti liquidi Che già ho Sono stata Allo YouTube Space Space di Londra Mi aspettavo un po' di più Honestly Nella parte Dello store Che è aperta a tutti quanti Quindi potete andare lì E acquistare quello che volete C'era la felpa Io volevo la felpa inizialmente Però non c'era Come la volevo io Cioè io la volevo bianca Con il logo di YouTube E non c'era Ho detto vabbè Grigia E non c'era C'era solo nera E non mi andava di prenderla Quindi Tutte anche le cose tipo Libri Eccetera eccetera Non c'era nemmeno Un libro nuovo di Zoella Era un po' Arretrato Come store di YouTube Ho preso questa qui Per una sterlina Come ricordo Diciamo come Più come simbolo Di Nello YouTube Space E poi Di questo brand Che si chiama Doll Beauty Molto carino Tutto rosa E nero Ho preso per 5 sterline Questa colla Perché Mi è sembrata Simile a quella di Essence Che sapete Mi piace moltissimo Però con L'applicatore A pennellino Questo qua Vedete che Si piega Andiamo avanti Seconda tappa Da Boots Questa volta A Londra Io sono una fan Della Tangle Taser La spazzola Tangle Taser È l'unica Che mi distriga bene I nodi Mi ci trovo Veramente un sacco Bene L'ho comprata Recentemente Anche proprio In Italia Quella Compatta Da portare In giro Questa qui Invece È Differente Non l'avevo mai vista A parte che Troppo carina Però Sembra tipo Quella delle bambole Ma mi giuro che funziona Oltre a sembrare Delle bambole E anche Cioè Dovrebbe essere Anche valida Questa qui Ha I dentini Un po' Un po' Diversi Rispetto Alla Solita Tangle Taser Come stampa È sempre simile Ma Diciamo La radice Da dove parte La setola È più spessa E quindi Oddio Dovrei fare tipo I video smr Dove mi spazzolo I capelli Non sembra male Ho preso poi Due Balsami Della Ossi Ossi È un marchio Molto conosciuto Per quello che riguarda I capelli E sono le Three minute miracles Sono dei trattamenti Balsami Slash Maschere Ma vanno Tenuti Soltanto Tre minuti Uno Ricostruttore Quindi per i capelli Danneggiati E l'altro Invece Color Quindi che poi Andrà bene Siccome Colorerò I capelli E quindi dovrebbe Aiutare a mantenere Di più Il colore Ultima cosa Presa sotto Vostro consiglio Sono dei prodotti Di bourgeois Nel senso Non ho preso i prodotti Sotto vostro consiglio Ma il marchio Perché sta arrivando In Italia Anzi credo sia già arrivato Comunque sta arrivando Proprio in questi giorni Il marchio di bourgeois E quindi volevo Provare anche altre cosine Per dirvi la mia Ho provato già Delle cose in passato Ho già delle opinioni Su altri prodotti Ma volevo provarne altri Quindi ho preso Un primer Un fondotinta Siero gel Io avevo provato Invece quello proprio Fondotinta E poi anche Questa cipria Viso Quindi questi tre prodottini Che hanno un odore Spaziale Secondo me Mi piace molto L'odore dei prodotti Di bourgeois Li proverò Anche loro Se volete In un video Insieme Con le novità Che stanno arrivando In Italia Let me know Mancano le ultime tre buste Quindi Io direi di andare Sui vestiti Che ho preso Perché avete visto Prima di te Non ho preso quasi Per nulla per vestire Monkey È diventato In poco tempo Uno dei miei negozi preferiti Dove fare acquisti Proprio di Di abbigliamento C'è sempre qualcosa Che mi piace Sapete che ad esempio Quest'anno è tornato di moda L'animalie Cioè Una cosa che torna sempre Tanto di moda Mi piace tantissimo Tra l'altro L'animalie Soprattutto il leopardato Cioè sono proprio Facile Da comprare Mi piace molto Infatti ho anche Un cappotto invernale Che è Super leopardato Cioè mi piace Una cosa leopardata Al massimo due Ma deve essere Un abbigliamento E un accessorio Non Due di abbigliamento Due di accessori No In generale Ne preferisco una In un look Magari total black Una maglia leopardata O un vestitino leopardato Con il resto Di altri colori O un Cappotto leopardato Con sotto Tutto altro tipo di Colori Magari anche Senza stampe Comunque A parte le mie preferenze Ho preso questa Maglietta Sì leopardata Ma con altri colori Quindi con questo Viola Borgogna Di base E il maculato Lilla È particolare Non è troppo calda Anzi Quindi la posso mettere Sotto E poi sopra Andare a mettere Un bel giaccone Pesante Nell'inverno Mentre adesso In autunno Sarà sicuramente Perfetta Oddio Questa in realtà È complicata Da mostrarvi Ha questa trama Quindi Base Colore arancione Stava troppo bene È così Autunnale Io questa me la sono immaginata Con gli stivaletti Presi da Missguided Che vi ho fatto vedere prima E poi ho messo in vita Questa cinta Perché senza la cinta Sinceramente È bocciato Ma con la cinta Che stringe sulla vita Che ho preso sempre da monkey Ci sta D'addio E questa è la cinta Che riprende poi anche Gli stivali Con questa fibbia Argento Un po' arrocchettara Ci sta Ci piace Che ne dite? Nel total look Sta molto molto bene Anche con i capelli raccolti Tipo un messy bun Prima di farvi vedere L'ultimo pezzo Che è Di nuovo un starbucks Vi faccio vedere Quello al quale tengo Di più E sapete che vi lascio Sempre il meglio Per ultimo Perché Chi arriva fino a qui È veramente Una true lady O un true lady Quindi fatevi sapere Se siete aderati A questo punto del video Scrivendo qui sotto Nei commenti Oh mio dio Io l'ho visto Così chi non l'avrà visto Dirà Oh mio dio Che cosa ho visto O che io non ho visto Beh bello Se non l'hai visto È perché non sei un true lady Sono stata nel Mono store Di Spectrum Spectrum Collections È un brand Che al momento Vende tantissimi pennelli È famoso per quello Ha fatto delle collaborazioni Con la Disney Ha fatto delle collaborazioni Con dei marchi Di film usciti Ci sono dei cofanetti Di Ariel La Sirenetta Ursula Pazzeschi Bellissimi C'è delle cose Che proprio da collezionisti Io ho aspettato tanto E non ho mai preso Ma io ho un amore Spassionato per Mean Girls Ogni volta che è il 3 ottobre E che c'è La festa annuale Di Mean Girls Mi taggate in tantissimi posti Ormai mi avrete anche un po' Associata a questo film E ne sono contenta Perché è il mio film Preferito di sempre Spectrum ha fatto una collezione Con Mean Girls Che io non acquistai Al tempo Questa volta L'ho trovata In negozi Quindi Ancora meglio Che comprarla online Perché Ho vissuto Tutta l'esperienza Del negozio Che sopra Ha anche una sala da tè Non tutti la conoscono Ma è bellissima È quella dove ho fatto La foto su Instagram Quella My brushes are better than yours E c'era un motivo Perché i miei pennelli Sono veramente troppo belli Perché ho acquistato La collezione Che era scontata E ho preso Un sacco di cose Cioè Dal non prendere nulla Sono arrivato a prendere Un sacco di cose Perché c'era una promozione Sulla promozione Ho preso Questo beauty cake Perché comunque I beauty cake Sono sempre utili Per andare in giro Questo è molto capiente Ha tutti I baci stampati Come sul burn book Ha le due Zip Per aprire Che c'è I dettagli Che riproducono Il burn book Se non avete mai visto Il film di Ming Girls Dopo questo video Andate Eccolo qui Il dettaglio Dei burn book Qui davanti C'è una frase Iconica Una delle tante Frasi iconiche Del film Che dice You're like Really pretty E poi si apre E c'è scritto So you agree You think you're really pretty Altra cosa che ho preso È questo beauty case qui Sempre con il dettaglio Del burn book È normale Tipo retato Una retina fucsia Con il logo di Spectrum E quello anche del film Di Ming Girls Si apre E dentro Tutta la collezione Dei pennelli Completa Tutta quanta La collezione Dei pennelli Di questa linea Di Ming Girls Ok Sono in totale Dieci pennelli Tra viso e occhi E sono tutti Fatti così Quindi sfumati Da rosa baby A fucsia A viola scuro La cosa veramente Che farà impazzire Gli amanti di Ming Girls Come me È che ogni pennello Oltre ad avere Il numero di serie Quindi B06 A07 Il numero che lo riconosce Ha anche Una citazione Iconica del film Ad esempio Qua c'è scritto You go go and coco E qua sotto c'è scritto That's so fetch Se spendevi Più di 50 O 60 Sterline Se non ricordo Automaticamente Avevi il regalo Io non ci credo Che ce l'ho Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad potete mettere tutti quanti i pennelli è proprio il burn book in tutto e per tutto sono veramente troppo 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 felice, cioè sono che abitava nel momento perfetto per acquistarlo per tutto fondamentalmente, per Morphe perché c'era questa collezione scontata, con questa promozione, cioè è stato veramente bellissimo, l'ultima cosa che vi faccio vedere è appunto Starbucks ho preso questa qui che è la tazza da asporto che potete appunto lavare e potete portarla anche lì da Starbucks per farvela ricaricare ogni volta, in modo tale da evitare lo spreco, stanno andando verso questa direzione, è comunque proprio la classica, quindi la volevo una che ricordasse, cioè una che fosse proprio ispirata a quella classica che loro ti danno sempre quando prendi qualcosa da bere, e poi mentre stavo in aeroporto, a ritorno a Stansted Airport stavo con Kevin e stavo male perché dovevo prendere il Taki Flu Deck quindi ho sentito delle commesse che stavano parlando in italiano tra loro e quindi ho detto guarda scusa, non saprei come chiederlo o come farmi capire bene da una commessa inglese perché non so se è una cosa che si fa normalmente però sto male avrei bisogno di un po' di acqua calda per poter prendere la medicina quindi lo chiedo a te perché ho sentito che stavate parlando in italiano e lei fa ah sì sì tranquilla te la do io adesso e intanto Kevin fa ma quelle non le vendono queste qui, le tazze e lei fa no qua non le vendiamo le puoi trovare forse da altre parti non lo so però comunque qua non le vendiamo e tipo mi fa a me però nonostante l'avesse chiesto a Kevin si vede che non lo so gli sono piaciuta mi fa vabbè comunque io adesso ti metto qui l'acqua calda così poi dopo se vuoi te la puoi tranquillamente imbuscare te la puoi prendere proprio tranquillamente non ti guardo nessuno ti guarda io ho fatto ok e quindi mi sono fatta la coppia cioè da un lato dell'Inghilterra l'ho pagata dall'altro lato una gentilissima commessa me l'ha data fondamentalmente e così ho fatto la coppia per me e una persona che viene a casa mio a bere che magari può essere Kevin visto che era lui quello che l'aveva doppiata però sorry Kevin era destino cioè puoi metterti contro il destino quindi siamo giunti alla conclusione di questo video immenso io sono consapevole che sarà stato tipo lunghissimo quindi non vi voglio trattenere oltre vi ricordo soltanto di lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale perché per me significa tanto io vi mando un bacio immenso fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più di questo haul sceglierò un commento random che dirà il suo pezzo preferito di tutto l'haul al quale farò un piccolo regalino come al solito vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo domenica al prossimo video bye ladies see you soon ciao 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 ciao